Ben trovati dal TG della Mobilità nell'area del Circo Massimo, prosegui la stagione estiva del Teatro dell'Opera. Gli spettacoli sono in calendario tutte le sere sino al 13 agosto. Per quanto riguarda la viabilità, dalle 20 a 30 sono possibili chiusure nelle strade vicine, sempre dalle 20 e 30 sino a mezzanotte, circa deviazioni per le linee 81, 118, 160, 160, 168 e 715. Alla domenica si aggiungono anche le linee 51, 85 e 87. Le altre notizie per un evento a fonte nuova sabato e domenica previste chiusure al traffico su via Nomentana nel tratto compreso tra via Primo Maggio e via Vico. La linea 337 cambia strada dalle 19 a fine servizio in entrambe le direzioni. È tutto per questa edizione del TG della Mobilità. Grazie a tutti.